Allora, riprendiamo da qua e vediamo un paio di argomenti che sono rimasti in sospeso prima di affrontare l'esercizio che vi avevo anticipato questa mattina su Telegram, così vi ho cercato di distrarre dalla lezione di matematica. Lunedì abbiamo dato un'occhiata a questi operatori logici, cosiddetti booleani, che abbiamo iniziato a capire che lavorano con un nuovo tipo di dato, che chiamiamo dato tipo booleano, che può avere solamente due valori vero o falso, quindi l'insieme, l'universo dei valori booleani non è la retta dei numeri ma semplicemente l'insieme che contiene questi due punti, come faccio a creare una variabile di tipo booleano? Io la creo o assegnandola come costante oppure come esito di un operatore di confronto, se io voglio creare una variabile booleana a, posso dire tu sei true e true è una costante di tipo booleano che posso segnare e utilizzare normalmente. Oppure assegno un valore calcolato da un operatore di confronto, ad esempio 3 uguale 7 sarà falso, guardiamo questa espressione che ci sono due volte l'uguale, questo uguale è un uguale di confronto che viene valutato prima, ho un 3, un 7, anziché sommarli di confronto, faccio un'operazione aritmetica, il risultato di questa operazione di confronto non è un numero, non è un int ma è un bool, questo bool viene assegnato alla variabile b, infatti b in questo caso è falsa, a b viene assegnato un valore falso. Una volta che ho un valore booleano lo posso manipolare e mescolare con altri valori booleani utilizzando gli operatori booleani, and, or e not. Quindi io posso scrivere true and true, che mi dice true, o poi posso scrivere a and b, che mi darà falso perché in questo caso sto facendo l'and, la congiunzione, la variabile a il cui valore logico è vero e la variabile b il cui valore logico è falso e secondo la tabella, diciamo così, di comportamento dell'operatore and, per avere un risultato vero devono essere entrambi i fattori veri e non uno solo dei due come capita in questo caso. Quindi questo fa sì che questi operatori logici vengano usati molto spesso per creare delle condizioni complesse, come avevamo visto sulla chiusura della lezione scorsa, in cui dicevo guarda io voglio, per verificare se un valore compreso tra un estremo minimo e un estremo massimo, ad esempio, ho bisogno di fare due confronti separatamente, uno con l'estremo minimo e l'altro con l'estremo massimo e questi confronti devono essere entrambi veri contemporaneamente. Quindi questa operazione come la leggo? Questi sono due numeri, li confronto con l'operatore maggiore uguale, che è un operatore relazionale, un operatore relazionale confronta numeri e istituisce booleani, quindi questo restituerà un valore che è true oppure false. Idem questa cosa qua, che fa un altro confronto e restituirà anch'esso un valore vero oppure falso, questi due valori vero o falso li combino tra di loro con questo operatore end. Questo è l'ordine con cui si fanno le operazioni. Attenzione a non farvi confondere dalla descrizione colloquiale. Io ho parole, perché la parola end e or sembrano parole del linguaggio, a volte vedo persone scrivere cose del tipo, if numero maggiore o uguale al valore minimo and minore o uguale valore massimo. No? Perché noi a parole diciamo se il numero è maggiore del minimo è maggiore del massimo. Però questo non funziona, chiaramente perché questo operatore qua è minore o uguale, infatti c'è un numero di sintassi perché manca uno di due termini del confronto. Quindi è vero che questo si legge facilmente ma ricordiamoci che i passaggi sono separati. Prima faccio i confronti, poi li metto insieme con l'end. L'end non si applica direttamente, non è una cosa di questo genere, il numero maggiore questo è maggiore dell'altro. Non esiste il modo di scriverlo così. Quindi dobbiamo capire quali sono le confronti elementari e poi come si combinano. Sono sempre questi due livelli. Ok. Gli operatori d'oggi sono solamente tre, quindi sono and che è vero se entrambi sono veri, or che è vero se almeno uno dei due è vero e quindi può essere falso solo se entrambi sono falsi. E poi c'è, poverino, il NOT che prende un valore di verità e restituisce l'esatto opposto. Quindi ha un argomento solo l'operatore NOT, è come il segno meno, non per cambiare di segno il numero. Il NOT cambia il segno logico del numero. Da vero diventa falso, da falso diventa vero. Quindi bisogna fare attenzione, ad esempio l'operatore NOT sul confronto A uguale B è la stessa cosa che chiedersi se A è diverso da B, perché inverte il senso del confronto. Quindi ci sono modi diversi di scrivere la stessa cosa. Facciamo solo attenzione quando scriviamo operazioni complesse, condizioni complesse che combinano tra di loro varie sottocondizioni elementari, che non sempre è intuitivo ciò che stiamo scrivendo. È facile confondere AND con OR. Ad esempio, quando diciamo il valore esterno all'intervallo tra 0 e 100 se è un valore esterno all'intervallo tra 0 e 100 vuol dire che cade l'intervallo minore di 0 e maggiore di 100. A parole lo possiamo anche dire. In realtà non possiamo scrivere il numero è minore di 0 AND numero maggiore di 100 perché non esisterà mai nessun numero che contemporaneamente sarà minore di 0 e maggiore di 100. In questo caso dovremmo usare un OR dice basta che o è minore di 0 e allora è fuori dall'intervallo o è maggiore di 100 e allora è fuori dall'intervallo almeno uno dei due. A volte noi usiamo AND per includere mi va bene così ma mi va anche bene così mentre invece nella logica AND fa l'intersezione richiede la contemporaneità delle condizioni a voler essere entrambe vere. Non c'è una scorciatoia per dire come scrivo la condizione giusta ma come c'è scritto qua bisogna pensarci bene essenzialmente bisogna sempre ragionare su quali sono i casi e quello che ci aiuta sempre è fare qualche esempietto a mano e vedere come calcoleremmo questi valori. Poi essendo questi operatori operatori comunque di un'aritmetica che lavora un algebra che lavora su dei valori hanno anche delle loro regole. L'operatore AND è commutativo associativo hanno una proprietà distributiva anche una proprietà in più rispetto ai numeri interi ma noi non andiamo diciamo così ad approfondire questo aspetto qua ci può servire ci potrebbe servire per semplificare un pochino le espressioni che magari ci troviamo a scrivere facendo dei passaggi per per trasportare questi operatori di AND e OR ma direi che non è il tipo di condizioni che dobbiamo creare non ci porterà a questi livelli di complessità. sulla legge di De Morgan non dico nulla perché c'è un esercizio del laboratorio apposta che vi chiede di giocarci poi al limite lo approfondiamo. Ecco l'altro argomento che volevo toccare oggi visto che poi facciamo qualche esercizio un po' sulle stringhe e sui numeri abbiamo visto vabbè i numeri c'è tutte le proprietà matematiche maggiore minore uguale eccetera e tutte le funzioni che ci permettono di trasformarle. Sulle stringhe finora abbiamo visto solamente le cose molto banali due stringhe sono uguale diversa oppure maggiore minore ma abbiamo già visto che maggiore minore è un pochino pericoloso perché non si segue esattamente l'ordine alfabetico. In realtà per le stringhe sono già predefinite tutta una serie di un operatore e una serie di metodi che ci possono tornare utili qualora volessimo capire se una stringa contiene o non contiene certi caratteri. Allora un operatore comodissimo è l'operatore in. Questo è un operatore di confronto un operatore relazionale che confronta due stringhe una stringa diciamo corta con una lunga essendo un operatore relazionale lui restituirà un valore vero o falso e mi restituisce il valore vero se la stringa che ho chiamato corta cioè quella a sinistra dell'operatore è contenuta è una sottostringa consecutiva della stringa che ho chiamato lunga cioè la seconda che compare nell'espressione. quindi se io avessi una stringa che si chiama buongiorno e mi chiedessi se la U è in S mi dice true cosa fa l'operatore in? prende la stringa corta in questo caso la U e va a cercare in tutta la posizione in tutta la stringa in questo caso buongiorno se compare questa sottostringa se scrivessi UN mi dovrebbe dire di no perché la U compare la N compare ma UN consecutivi attaccati non compaiono mai c'erano due domande? è sensibile al fatto che le lettere siano maiuscole o minuscole? sì certamente sono caratteri per lui diversi quindi fa il confronto carattere per carattere dimmi allora torniamo indietro a questa A and B mi dice false perché per le assegnazioni che avevo fatto prima A è true B è false e quindi sto scrivendo non in generale in questo caso specifico qui sto scrivendo true and false e quindi il risultato fa false ok c'era un'altra domanda da questa parte qua se non sbaglio sì maiuscole e minuscole è quello che era anche il suo dubbio vengono considerate diverse quindi ad esempio la B di buongiorno non c'è la B minuscola se io volessi fare un confronto al netto del maiuscole e minuscole non è direttamente l'operatore I che me lo fa ma potrei dire guarda io voglio sapere se una B è presente in S dimenticando le maiuscole quindi cosa posso fare posso prendere la S e convertirla in minuscolo quindi non mi chiedo se la stringa B minuscolo che è l'iniziale di buongiorno compare in S ma compare nella versione di S che è stata convertita in tutto il minuscolo allora in questo caso mi dice sì ok quindi se devo se all'inizio sembra un po' intuitivo se voglio fare un confronto ignorando le maiuscole devo prima convertire tutto il minuscolo e poi faccio il confronto tra le lettere che saranno sicuramente minuscole oppure tutto il maiuscolo è uguale cioè la stessa cosa io potrei fare B maiuscolo in S punto upper e anche qui nella trova dimmi no no però buona domanda lui dice le domande sono sempre tutte buone or B minuscolo in S punto S quindi lui dice ma io voglio cercare vedere è buono perché è una traduzione di quello che direi a parole cioè c'è una B maiuscola o minuscola nella mia stringa e questo come funziona a mi da B che non vuol dire niente non mi da vero o falso questo purtroppo non dà un errore di sintassi perché lui funziona così è come se ci fosse una parentesi qua perché l'operatore in ha una priorità maggiore rispetto all'operatore or va a vedere se B grande c'è in S in questo caso c'è e quindi questa operazione è l'end tra B piccolo e true l'end dovrebbe arrabbiarsi dice ma senti io sono un end dammi due booleani per favore non dammi una stringa un booleano in realtà lui l'end ha tutta una serie di scorciatoie per cui dice guarda se io so che uno dei due operandi dell'end è vero il risultato dell'operazione sarà l'altro operando immaginate fare end con vero non ti cambia la condizione se l'altra era falsa il risultato sarà falso se l'altra era vera il risultato sarà vero allora Python estende questo concetto anche a operandi che non siano booleani e lui ti dice se uno dei due operandi dell'end è vero come in questo caso la parentesi tonda diventa vera allora ti restituisco come valore l'altro operando che in questo caso è una stringa è una cosa su cui non ci farai affidamento anche poi se scrivo if di questa cosa qua sarà l'if che si arrabbia ma come mi dai una stringa if io voglio una condizione però è un esempio di un'espressione che a parole ha un significato ma poi tradotta nel linguaggio viene invece interpretata in un modo completamente diverso dimmi si può lui vuole usare una parentesi per dire no ma io sono più furbo di te caro Python e allora faccio così e lui mi risponde falso e non dobbiamo capire perché perché andiamo a vedere cosa stiamo facendo andiamo a spezzare la formula b or b mi da b minuscolo e di nuovo sono quei casi particolari di un operatore or in cui se il primo operando è falso il risultato del se il primo operando non è falso il risultato dell'operazione è il primo operando stesso se il primo operando fosse falso mi ritorno nel secondo ci sono tutta una serie di regole in cui però preferisco non entrare di cosiddetta valutazione a corto circuito degli operandi booleani in cui lui si accorge che visto che allora fatemi tornare indietro a questa tabellina se io ho un or e scopro che a è vero il risultato sarà sempre vero quindi non mi serve neanche andare a guardare b e se guardate nei casi in cui a è vero il risultato dell'operazione guardate questo è sul loro devo ragionare sul falso se io so che a è vero il risultato sarà sicuramente di a è vero so che il risultato sarà sicuramente vero se a è falso il risultato sarà uguale a b guardate queste due righe dove a è falso dove a è falso il risultato è uguale a b quindi in realtà internamente lui fa questo ragionamento guarda i due operandi se uno dei due è vero il risultato è vero nel caso del lavoro se uno dei due è falso il risultato sarà uguale all'altro operando e quindi lui vede che b non è falso lo prende per vero e restituisce lui è un comportamento degli operatori booleani lecito specificato cioè python ti spiega esattamente cosa succede però è una cosa che io preferirei evitare e ora noi cerchiamo di usarli con dei booleani quindi mettere delle condizioni complete mi dispiace tra virgolette che python usi questi meccanismi che in realtà poi servono a velocizzare accorciare il codice in situazioni più complesse però mi dispiace perché non ti segnala neanche un warning neanche un messaggio d'errore quando stai facendo cose che magari non intendevi fare ok diciamo che tutte le cose che abbiamo scritto qua la risposta è sempre stata una sorpresa rispetto a quanto ci aspettassimo dimmi questo dunque cosa farebbe t allora t in s è falso quindi sarebbe b or falso se non sbaglio la risposta è b non facciamolo ok è più semplice poi chiaro che si può ragionare ma non è non è particolarmente leggibile anche un codice di questo genere sì no allora lui sta cercando di generalizzare questo ragionamento e mi dice se io ho una stringa e chiamo la funzione bool di quella stringa cosa fa la considera qualunque stringa convertita in booleano viene considerata vera tranne la stringa vuota che viene considerata falsa questo ci servirà ci farà comodo però il bool di una stringa non è la stringa stessa ma la funzione bool come la funzione int str che converte verso quel tipo di dato mentre se io facessi int di ciao si arrabbia perché ciao non è un numero intero bool di ciao lo accetta perché dice ok qualunque stringa che non sia la stringa vuota la considero vera questo in realtà vale anche sui numeri se io faccio bool di zero mi dice falso se faccio bool di 4 mi dice vero quindi in certo senso qualunque valore che non sia nullo quindi lo zero come numero la stringa vuota come stringa viene considerato logicamente vero è come scrivere 4 è diverso da zero si prendi 4 consideralo come un booleano è come chiedersi il 4 è diverso da zero perché qualunque valore diverso da zero viene considerato vero quando python ha bisogno di un valore booleano idem per le stringhe qualunque stringa diversa dalla stringa nulla che è lo zero del mondo delle stringhe viene considerata vera e la stringa nulla sola viene considerata invece falsa sono conversioni ci permette di avere le conversioni sottintese cioè nel nostro programma anziché scrivere if f è diverso da stringa vuota per dire voglio essere sicuro che l'utente abbia scritto qualcosa questo è il modo corretto di scriverlo l'utente scrive un input e io voglio controllare che abbia scritto qualcosa quindi controllo f i s è diverso dalla stringa vuota per questa cosa che abbiamo appena scoperto potrei scrivere semplicemente così if s allora darei alla if un valore string anziché un valore booleano e quindi il python prende questa string e dice senti però io ho bisogno in booleano la converto automaticamente in booleano e vedo che è true se è diverso dalla stringa vuota e falso se è uguale a stringa vuota quindi mi dà esattamente lo stesso risultato questa è una cosa che potremmo fare non è così illegibile o difficile da decifrare come era il giochino del lore di cui avevamo parlato prima però cerchiamo prima di familiarizzarci con le forme standard canoniche poi le abbreviazioni le possiamo anche mettere in gioco in un secondo momento allora senza complicarsi la vita quindi abbiamo visto che se io l'operatore in alla fine nella sua forma semplice confronta due stringhe restituisce un valore vero o falso e n ad esempio in buongiorno ci sono due volte la o e quindi io posso chiedermi se o è in buongiorno in s mi dice di sì anche se c'è due volte sicuramente però lui chiede che non è un sombolo carattere ma una sequenza consecutiva ok quindi o n c'è n o anche vabbè n o n non c'è nonostante ci sia un n una o un'altra n va a vedere solamente le sequenze non va a pescare un carattere qua un carattere là ok quindi ad esempio se uno volesse chiedersi ma c'è una vocale in quella parola una cosa che potrebbe venire in mente è questa non fa quello che vogliamo questo questo si chiede se dentro la parola c'è la sequenza a e io u non se c'è una oppure una e oppure una i oppure una u per sapere se c'è una vocale dovrò chiedere se se c'è una a oppure c'è una e oppure mettiamoci le parentesi così siamo sicuri di cosa succede se c'è una i eccetera poi ci sarebbe la o la u ma per brevitare non le ho scritte ok quindi non facciamoci mai ingannare dal senso intuitivo del in questo caso dell'operatore in del termine in ah va a vedere se c'è una sottostring sì però lo fa con una regola ben precisa non come vorrei io che lo facesse volendo c'è un operatore che si chiama not in che è esattamente l'inverso ma questo è un operatore quindi due stringhe le posso confrontare per uguaglianza con l'uguale oppure per contenimento una stringa contenuta dentro un'altra una sottostringa di un'altra completa però a volte può servirmi andare a confrontare solamente una parte della stringa che non so i primi caratteri gli ultimi caratteri oppure trasformarla in maiuscolo in minuscolo oppure confrontare se sono numeri e lettere quindi esistono tutta una serie di metodi che mi danno un valore in questo caso booleano ends with è uno di questi metodi che si chiede se la stringa termina con questi caratteri quindi è una sorta di ricerca come fa in ma solamente al fondo quindi il nostro buongiorno ends with o si ends with no si ends with rno si ends with qualche cosa altro no quindi va a verificare se i caratteri che ti do sono esattamente gli stessi ultimi caratteri della stringa poi ci sono delle varianti della in la funzione in mi dà solo informazione booleana la stringa c'è o no ma se io volessi sapere dov'è io so che dentro la parola buongiorno c'è la lettera o dov'è allora per questo mi serve ad esempio il metodo find che mi dà non solo vero falso c'è non c'è ma anche dov'è quindi se io facessi s.find di o s è la solita buongiorno mi dice che è in posizione 2 cosa vuol dire questo 2 vuol dire che c'è una o e la prima o che ho incontrato è nel carattere nella terza posizione della stringa 0 1 2 ok posizione di indice 2 chiaramente sarà il terzo carattere poi non mi dice se ce ne sono altre dopo e se io cercassi una lettera che non c'è la t mi dà meno 1 che è un valore strano che mi fa capire che non è tra 0 e la lunghezza della stringa meno 1 è un valore anomalo che mi permette di capire che non non c'è il valore che stavo cercando non c'è la stringa che stavo cercando quindi in mi dice vero o falso c'è non c'è find mi dice c'è e ti dico dov'è oppure non c'è e ti dico meno 1 allora tu vuoi fare una cosa del tipo così e quindi tu vuoi dire questa cosa qua la metto in un if se questa cosa qua è diversa da 0 così sì questo è un modo molto contorto di farlo lui dice guarda se mi dà meno 1 sommandogli 1 fa 0 e quindi mi è considerato come falso se mi dà qualcos'altro sommandogli 1 fa un numero diverso da 0 e quindi mi dà come vero sì però la stessa cosa la potrei scrivere come if s.find di Dio di Dio diverso da meno 1 è la stessa cosa ma mi sembra più leggibile cioè ciò che sto controllando è che sia meno 1 allora vado a confrontarlo con meno 1 non è che gli sommo un valore per cui se per caso fosse meno 1 diventa 0 sapendo che 0 è convertito in bull fa falso se è meno 1 quella operazione di disuguaglianza è falsa di suo ok cerchiamo sempre di trovare il modo più diretto di esprimere le cose poi sono equivalenti a quella di prima dal punto di vista dell'interprete Python dal punto di vista di chi legge il nostro codice no non sono equivalenti find l'abbiamo visto e l'altro l'altro metodo che può tornare utile sempre di ricerca di sottostringhe è un metodo che si chiama count che conta quante volte quella sottostringa compare nel nostro caso la o compare tre volte buongiorno se chiedessi invece quante volte compare la t mi dirà zero volte se chiedessi la sequenza on comparirà una volta sola on quindi mi può servire per sapere quante volte compare una certa un certo carattere o una certa sequenza di carattere quindi voglio solo sapere se c'è uso in voglio sapere dov'è uso find voglio sapere quante ce n'è uso count dimmi find mi dà la posizione nella versione elementare mi dà la prima posizione questa è la spiegazione della funzione find che troviamo che è la versione del metodo find la versione completa dice così il metodo find applicato a una stringa può avere un parametro due o tre qui nella documentazione le parentesi quadre stanno indicare parti opzionali ok quindi ritorna l'indice più basso all'interno della stringa dove la sottostringa found è stata trovata quindi il primo mi dà solo il primo e quindi in pratica lui dice che volendo posso però cercare non in tutta la stringa ma solo in una porzione della stringa passando agli altri due parametri che possono essere start e end che sono interpretati scritto qua come se io avessi fatto una porzione della stringa stessa quindi volendo io potrei cercare non dal primo carattere ma da metà stringa da lì in avanti se io so che la prima o è in posizione due io potrei dire ma ce n'è un'altra beh proviamo a vedere dalla posizione 3 in avanti e mi dice che ce n'è un'altra in posizione 6 ce ne sarà ancora un'altra sì so che sono 3 qual è quella successiva beh andiamo a cercare dalla posizione 7 in avanti me la trovo nella posizione 9 quindi posso chiedere a find di andare a cercare partendo non dal primo carattere ma da un carattere che desidero questo è grossomodo equivalente a dire abbiamo detto la prima o si trova nella posizione 2 allora andiamo a vedere nel resto della stringa dal 3 in poi vediamo se ci sono altre o quindi immaginiamo che io non mi ricordi che find ha questo parametro che mi permette di specificare la posizione di partenza vabbè me lo faccio prendo la stringa butto via i caratteri fino alla o in compresa prendo solo la parte di stringa che comincia dal carattere successivo e nella parte di stringa che comincia dal carattere successivo vado a cercare se c'è un'altra o ovviamente questo valore mi dirà che si trova nel terzo carattere nel quarto scusatemi nel quarto carattere del pezzo di stringa che ho cercato e quindi nella stringa originale era saltata in sala in posizione 4 più 3 6 3 più 3 scusate quindi devo fare un po' di pasticcio per dicere ho cancellato tre caratteri mi dice che sono nel terzo e quindi in realtà sono nel sesto come sempre possiamo arrivare allo stesso risultato in modi diversi ok uno potrebbe chiedersi ma non c'è un modo per farmi dire subito tutti i posti in cui si trova sì ma non oggi nel senso che ci servono le liste per poter memorizzare questo risultato però con questi combinando questi operatori con lo slicing con lean vedete che riuscite praticamente a fare molti tipi di esplorazioni poi ci sono altri metodi molto più semplici che vanno a vedere se tutti i caratteri di una determinata stringa hanno una certa proprietà cioè questa stringa contiene solo caratteri alfabetici questa stringa contiene solo cifre numeriche is digit contiene solo lettere minuscole is lower contiene solo spazi oppure tab oppure a capo contiene solo lettere maiuscole contiene solo una mistura di numeri e lettere quindi niente punteggiatura niente spazi quindi questo già in molti casi ci può tornare utile inserisci una stringa senza spazi allora magari vai a vesicare se è alfanumerico sei sicuro che non ci sono caratteri non desiderati is digit è composta da sole cifre attenzione che is digit non va a verificare se la stringa è un corretto numero intero o reale ma a verificare se contiene solo cifre quindi se contiene solo cifre sarà sicuramente un numero intero ma un numero intero potrebbe anche essere meno 3 che non contiene solo cifre perché contiene anche il meno davanti quindi in questo caso is digit sarebbe falso cioè non pensate che is digit vada a controllare se il numero è scritto correttamente non c'è una funzione per farlo e quindi ci sono appunto con l'esempio qua 1729 is digit è vero meno 1729 che è un numero è falso perché c'è almeno un carattere che non è una cifra numerica quindi non usiamolo per controllare a meno che non ci interessino solo numeri interi positivi allora possiamo pensare di usare is digit per controllare ma numeri interi in generale no e numeri reali neanche perché c'è nel punto decimale che ci dà fastidio che is digit considera non valido quindi abbiamo un po' un armamentario di di metodi che possiamo usare sia per elaborare il nostro programma sia soprattutto anche per controllare gli input il programma tipicamente riceve dei dati dall'utente e prima di elaborarli deve controllare che questi dati siano sensati ma sia che questi dati siano interi sia che siano stringhe sia che siano reali ad esempio nel caso degli interi questo si rifà l'esempio dell'ascensore un piano negativo non ha senso quindi cosa deve fare il programma dell'ascensore se l'utente chiede di andare al piano meno 7 che non esiste deve dire caro utente ha inserito un dato sbagliato e non provare applicare l'algoritmo che poi chissà cosa gli dice come risultato non c'è nessun risultato giusto se il dato di ingresso è sbagliato quindi ci accorgeremo che molte volte dopo che abbiamo letto un dato dovremo spendere un po' di tempo a controllare che quel dato sia corretto e poi una volta che siamo sicuri che il dato sia valido allora possiamo andare avanti ad elaborarlo a sviluppare il resto del programma ci sono dei casi in cui il dato in ingresso appunto essendo sbagliato non permette il programma di continuare allora in quel caso il programma cosa può fare se fosse un diagramma di flusso direi il dato è negativo stop altrimenti se sei stato positivo vai avanti e fai il resto del programma allora come faccio a inserire uno stop un fine del programma all'interno del mio codice perché il programma normalmente finisce quando arriva in fondo quando eseguito tutta l'istruzione allora nel caso in cui si verificano degli errori non recuperabili diciamo così in cui il programma poi non ha senso che vada avanti con quei valori si può usare questa funzione che si chiama exit che fa terminare il programma questo import non sono sicuro che serve secondo me non serve fa terminare il programma con un messaggio di errore dicendo guarda il dato non è valido mi fermo qui la funzione exit quando viene chiamata blocca il programma quindi tutto ciò che segue tutte le righe dopo la funzione exit non verranno mai viste mai eseguite perché il programma si blocca prima è l'istruzione di suicidio questo il programma decide di autosuicidarsi questo è l'ultimo grido di dolore mentre si suicida dopodiché termina vedremo poi a partire dalle ultime ore di oggi soluzioni migliori in cui anziché dire se hai inserito un valore sbagliato battene perché di fatto l'exit è questo il programma sarebbe meglio che dicesse ma se hai inserito un errore sbagliato reinseriscilo ti permetto di reinserirlo questo lo vedremo tra un attimo quando affronteremo i cicli ok questi sono diciamo gli ingredienti che mi serviva ancora raccontarvi prima di provare ad affrontare l'esercizio della briscola che vi volevo proporre no? allora ho pensato un esercizio in cui servisse un po' di if un po' di condizioni booleane eccetera e questo mi è sembrato alla nostra portata allora sapete tutti giocare a briscola? no? cosa venite a fare qui? andate prima a imparare le cose serie allora non vi racconto tutte le tutte le le regole però è un gioco di carte chiaramente si gioca tipicamente con un mazzo da 36 o da 40 dipende da dai giochi dalle varie varianti e all'inizio della partita quando tu distribuisci le carte ne giri una e il seme della carta che è girato è il cosiddetto seme di briscola per quella partita ok? quindi c'è un seme speciale rispetto agli altri dopodiché il gioco è molto semplice ciascun giocatore a turno posa una carta sul mazzo quindi siamo in quattro ciascuno dei quattro posa una carta tipicamente ci danno tre carte per volta alla fine quando tutti e quattro hanno posato le carte sul tavolo la carta più grande cioè chi ha posato la carta più grande prende tutto banale prossimo giro altre quattro carte e così via alla fine della partita si contano i punteggi ottenuti perché le carte non hanno tutti gli stessi punteggi cioè non conta quante carte prendi ma qual è il loro valore in una delle varianti delle carte si usano le carte da gioco quelle che qualcuno su Telegram ha detto sono le carte francesi quelle che hanno quattro semi cuori quadri fiori picche se no si può anche fare con le carte napoletane dove c'hai bastoni denari spade è uguale alla fine sono solo etichette e abbiamo delle carte che vanno asso due tre quattro cinque sei secondo me sette non c'è fante donna re no ma sette non c'è sai ci sono troppe carte ma fa lo stesso non ci cambia la sostanza del gioco c'è o non c'è c'è allora mazzo da 40 prendiamo ok va bene perché si può anche giocare con mazzo da 36 e quindi abbiamo dieci carte di quattro semi ciascuna cosa fa il programma che fai il valore delle carte il punteggio delle carte non è poi così intuitivo nel senso che normalmente le carte dalle due al sette non valgono niente però sono ordinate cioè il cinque vale più del due il sette vale più del quattro e così via fante donna re danno punteggi in ordine due punti tre punti quattro punti il tre vale dieci punti l'asso ne vale undici quindi se io dovessi elencare le carte in ordine di valore lasciamo parte dei punteggi numerici che non sono richiesti in questo caso in ordine di valore c'è il due il quattro cinque sei sette jack donna re tre e asso in quest'ordine ok allora il primo giocatore gioca una carta il cui seme definisce il seme della mano di gioco quindi gioco un tre di quadri no tre no butto subito di un tre gioco il quattro di quadri che è uno scartino l'altro giocatore cosa può fare può mettere un altro non può deve mettere un'altra carta se mette una carta del seme diverso dal mio ha perso perché io ho messo quadri si gioca a quadri se mette una carta di quadri di valore maggiore del mio ha vinto e quindi si prende la mano punto eccezione le carte di briscola del seme di briscola valgono più delle altre quindi se io metto un tre di quadri che è una carta molto alta di seme quadri di briscola e fiori lui mi mette un due di fiori che è la carta più sfigata ma di seme briscola vince lui ok quindi tra due carte dello stesso seme vince la più grande di seme diverso vince la prima che è stata messa il giocatore che l'ha messa l'altro perde una e due briscola l'altra no vince quella di briscola entrambi briscola vince la più grande tra le due basta credo che sia tutti i casi possibili è più facile giocarci che spiegarlo allora il nostro programma però deve capirlo perché ho detto il secondo il secondo giocatore può giocare una carta di seme diverso e perde oppure una carta dello stesso seme in tal caso vincerà colui che ha giocato la carta più alta non c'è parità non esiste le carte sono tutte diverse quindi non è possibile che uno metta una carta stesso seme e stesso valore le carte di cui seme è pari al seme di briscola vincono sempre sulle carte di ogni altro seme sia che la giochi per prima che la giochi per seconda non importa ok cosa deve fare il programma alla fine di tutta questa questa digressione da bisca clandestina il programma dopo aver stampato i semi di briscola scelta ecco i semi di briscola lo estrae casualmente il programma già scritto sulla prima riga il programma decide automaticamente in modo casuale i semi di briscola il programma dopo aver stampato questa partita qua si gioca con briscola picche va bene il programma accetterà la giocata del primo giocatore ed il secondo giocatore quindi ciascuno dei due dice quale carta sta giocando quindi non stiamo simulando il mazzo mescolare il mazzo eccetera eccetera semplicemente l'utente scrive beh io gioco tre di picche pensiamo sia onesto che ce l'abbia davvero ogni giocata quindi si adà una stringa di due caratteri tre di quadri jack di fiori eccetera la prima lettera indica il valore della carta e la seconda indica il seme il programma deve accettare accetterà sia lettere maiuscole che minuscole e verificherà la correttezza del dato immesso non posso giocare un nove di picche oppure un tre di un seme che non esiste se i dati immessi sono corretti allora il programma determinerà il vincitore della mano stampando se vince il giocatore uno o vince il giocatore due applicando le regole che ci siamo detti un attimo fa parliamo solo con due giocatori normalmente si gioca in quattro ok allora algoritmo vabbè l'algoritmo è abbastanza lineare no? ci dice già il testo che devo fare scegli il seme di briscola accetta la giocata del giocatore uno e controlla che sia giusta accetta la giocata del giocatore due e controlla che sia giusta decidi chi ha vinto sulla base del seme di briscola che hai scelto e delle giocate che sono state fatte quindi a livello molto alto sono quattro blocchi in sequenza quattro macro blocchi in sequenza poi dobbiamo entrare dentro ciascuno di questi che non sono banali quindi noi possiamo dire ok uno scegli e stampa il seme di briscola due accetta e controlla accetta leggi acquisisci un pezzo di più e verifica la giocata uno acquisisci e verifica la giocata due tre quattro determina e stampa il vincitore chi ha vinto queste quattro parti di programma come si parlano tra di loro si parlano con delle variabili a me piace sempre ragionare così ho un blocco di programma quali sono i valori che gli servono per lavorare e quali sono i valori che lui produce in uscita così è più facile ragionare un blocco alla volta poi tra due settimane impareremo a fare le funzioni che ci permettono ancora di isolarli meglio quindi il blocco uno cosa fa genera una variabile che potremmo chiamare appunto briscola che può essere fiori cuori quadri un carattere di questi quattro se scegliamo di codificare i semi con stringhe di un carattere letterale maiuscolo potremmo scegliere di codificare i semi con numeri 0, 1, 2, 3 se 0 è cuori 1 è quadri 3 picche e altre fiori potremmo scegliere di codificare i semi con una stringhe di un asterisco due asterischi tre asterischi quattro asterischi possiamo scegliere noi non c'è nessuno che ci obbliga o ci prescrive come deve essere salvata questa informazione quello che è certo è che il programma deve sapere qual è il semi con cui si gioca di briscola memorizziamolo in un modo che sia poi comodo per generarlo e comodo per utilizzarlo io come prima ipotesi ho messo questa però potremmo anche chiamare dire che cuori è 0 e fiori è 1 e pic 2 e l'altro 4 è 3 sarà meno intuitivo ma magari forse è più facile da generare perché quando devo generarlo a caso randint mi sputa fuori già un numero a random in generale dei numeri non delle lettere però sono scelte facciamo una scelta che ci sembra logica utile nel complesso del programma poi quando andremo a implementare il singolo blocco poi ci poniamo il problema quindi questo blocco qua diciamo così genere in uscita definisce questa variabile il blocco 2 acquisisci e verifica la giocata 1 che cosa fa legge fa del lavoro farà un input farà tutta una serie di controlli e poi alla fine cosa rimane tutto ciò rimane una stringa di due caratteri che rappresenta la giocata del primo giocatore potrei avere ad esempio definisce cosa giocata 1 che può essere una stringa di due caratteri appunto diciamo 3 di fiori jack di picche o cose di questo genere quindi una stringa di due caratteri maiuscoli di cui il primo è il valore della carta e di secondo è il seme dove il valore è uno di quelli là sopra e il seme è uno di quelli là sotto allora potrebbe far comodo definire nel codice delle costanti ad esempio i semi che sono cuori quadri fiori picche e i valori delle carte che sono asso 2 3 4 5 6 7 fante donna re così sotto quando dico è un seme valido non è che devo fare 12000 if ma controllo che sia uno di quei semi là sopra e idem per di valore c'è un principio che impareremo a usare nella programmazione si chiama don't repeat yourself dry è sempre bene in un programma un'informazione darla una volta sola in un punto solo e nelle volte successive riusarle io vorrei io vorrei evitare di avere in 7 punti diversi del programma il controllo se il seme è cuori quadri fiori picche cuori quadri fiori picche perché poi un domani arriva il tizio che dice io voglio giocare con le carte napoletane e devo andare a modificare in 57 posti il programma invece definisco una volta sola e poi uso ciò che è definito sopra ok quindi noi decidiamo che il signor giocata di definire qua una variabile giocata 1 abbiamo deciso che sia una stringa di due caratteri il primo carattere è sicuramente deve essere pescato da valori il secondo carattere deve essere pescato da semi allora scriviamo di cui il primo tra valori e il secondo tra semi dove tra è la sintesi del ragionamento che abbiamo fatto questa è una scelta avrei potuto scegliere diversamente cioè il codice che sto per scrivere qua nel blocco 2 avrei potuto dire definisce valore 1 e semi 1 quindi valore 1 sarà magari solo il 3 e semi 1 è quadri è un modo equivalente di indicare la stessa cosa decidiamolo poi tanto questi valori serviranno nel punto 4 se io c'ho una stringa sola faccio sempre in tempo separarla se ho due pezzettini diversi faccio sempre in tempo unirli quindi non è che ci perdo nulla però devo essere chiaro fin dall'inizio su quali sono i valori che vengono calcolati da questo signore potrei anche dire altrimenti definisce valore 1 che sia un numero magari se il 3 sarebbe 0 il carattere in posizione 2 e invece il seme se è quadri sarebbe il carattere in posizione 1 potrei decidere di codificare il valore del seme non attraverso la stringa ma la posizione l'indice della posizione all'interno delle stringhe semi e valori in cui si trova quel carattere è uguale passo da uno all'altro facilmente ne scelgo uno scelgo una codifica dell'informazione cioè l'informazione qual è? la carta che ho giocato come la codifico? boh questi sono tre modi tutti e tre leciti tutti e tre permettono di codificare qualunque carta ciascuno si può passare da uno all'altro non perdo informazione qual è quello più giusto? boh il primo che mi viene in mente quello che mi convince di più quello che mi semplifica il lavoro ma sono equivalenti in termini di informazione rappresentata quindi dobbiamo sempre e lo vedremo meglio quando sarà più difficile quando faremo strutture dati più complicate un conto è l'informazione che ho i dati le informazioni che mi arrivano dal mondo esterno un conto è come io scelga di codificarli attraverso le strutture dati che il linguaggio mi mette a disposizione in questo caso gli interi le stringhe ok? quindi probabilmente la prima scegliamo questa ci sembra più normale ma siamo stati un pochino tratti in inganno dal dal testo dice ma l'utente la inserisce così e allora me la salvo così non ci sto tanto a pensare però è uguale l'importante è che ragioniamo appunto sul fatto che alla fine dopo che ho eseguito questo blocco abbiamo questa variabile che si chiama giocata 1 queste sarebbero alternative che non andiamo a implementare ma avremmo a questo punto in uscita di quei blocchi variabili che si chiamano in modo diverso e che contengono dei valori diversi quindi saranno poi usate in modo diverso se non volete scriverlo come commento scrivetelo su un pezzo di carta perché così avete chiaro quali sono i dati su cui potete lavorare e cosa contengono sempre fate degli esempi la variabile A contiene la carta sì ad esempio cosa contiene ok ci aiuta tantissimo acquisisci magari anche con la Q e verifica la giocata 2 sarà uguale semplicemente definisce però giocata 2 anziché giocata 1 cioè alla fine di questo blocco farà più o meno lo stesso lavoro ma mi crea una variabile diversa da quella di prima devo poterla distinguere e a questo punto il quarto blocco si basa su quelli precedenti quindi riceve in ingresso briscola giocata 1 giocata 2 e produce vero o falso da stampare oppure 1 2 produce 1 2 il vincitore 1 o 2 vince 1 o vince 2 stampandolo quindi può anche non memorizzare di una variabile però possiamo chiamare anche una variabile che si chiama vincitore che sarà un intero che vale 1 o vale 2 per forza ok da dove partiamo? allora il blocco 1 significa estrarre un seme a caso il blocco 2 lavorare con l'input e controllare che quell'input sia corretto il blocco 3 sarà uguale al blocco 2 il blocco 4 è quello che adotta implementa le regole del gioco qual è quello più difficile? se la giocano forse il 2 e il 4 ma secondo me è il 4 è quello dove c'è più da ragionare partiamo da lui partiamo da lì allora facciamo finta che l'1 l'abbiamo fatto e diciamo che la briscola è cuori perché sono un tipo romantico diciamo che il primo giocatore ha una giocata 1 che leggiamo così senza nessun controllo alla garibaldina giocata 1 e giocata 2 idem secondo giocatore cosa ho fatto ho implementato il minimissimo che potevo implementare scusate il doppio superlativo nei punti precedenti per permettermi di concentrarmi sull'ultimo punto e tornerò ai punti precedenti che sono più facili quando sarà già un pochino più stanco un pochino più fuso punto 2 che cosa è è completo no deve fare due cose il punto 2 leggere un dato e controllarlo lo legge sì lo controlla no e vabbè la facciamo dopo il punto 1 cosa fa deve definire un seme lo definisce sì lo definisce casualmente no e vabbè lo mettiamo a posto dopo ma andiamo alla parte tosta del programma sapendo a questo punto giocata 1 giocata 2 e seme briscola chi vince? eh dobbiamo provare a implementare le varie regole no dimmi al punto 3 giocata 2 sì giocata 2 grazie mille dimmi qui dici questo sotto allora io qua ho ipotizzato tre modi diversi di rappresentare la giocata ok il primo modo è che una stringa di due caratteri il secondo modo separando una stringa di un carattere che rappresenta il valore e una stringa di un carattere che rappresenta il seme il terzo modo poteva essere quello di rappresentare con un numero intero il valore della giocata e il valore del seme quindi seme 1 uguale 1 intendevo il fatto che il vero seme era semi di 1 che semi di 1 è cuori q quadri ok da questo che non è chiaro poi di queste tre alternative ho scelto la prima e queste due le sto ignorando anzi mettiamo mettiamolo chiaro in alternativa ma non sono fatte queste ah una cosa che possiamo fare anche nel punto 1 stampare la briscola per questa mano è c dobbiamo stamparla i giocatori hanno bisogno di sapere prima di giocare il giocatore deve sapere quello che c'è di briscola in tavolo quindi solo per verificare magari mettiamoci una stampa qua sotto avete giocato due punti giocata 1 e giocata 2 proviamo a eseguire questo programma questo programma contiene 1 2 3 4 5 6 7 istruzioni sono già tante prima di provarlo per la prima volta già scritto 7 istruzioni è meglio provarlo non scrivete mai 30 istruzioni e poi lo provo aggiungo ancora un pezzo e poi lo provo no provate i pezzi piccoli allora ad esempio il primo giocatore ha il 3 di quadri e il secondo giocatore ha il jack di picche jack ho detto jack ho scritto king jack di picche avete giocato 3q e jp fin qua beh in realtà queste cose qua dovremmo magari mettere in maiuscolo che dite ma fa parte del controllo dei dati per ora facciamo finta che il giocatore sia stato più bravo e l'abbia già messo lui in maiuscolo ad esempio quell'errore che mi ha fatto notare questo compagno prima in cui avevo scritto giocata 1 anziché giocata 2 qua me ne sarei accorto facendo questa print quando scrivo giocata 2 e Python mi dice guarda che questa variabile non è definita se invece non avessi fatto subito la print e il run l'esecuzione del programma me ne sarei accorto forse tra un'ora dove poi vado a recuperare qual era l'errore finché ho 7 istruzioni di trovare quella sbagliata è facile quando comincio a avere 200 no ok quindi andiamo avanti sempre per gradi piccoli passi ok allora adesso facciamo finta di avere tutti i dati che ci servono e come facciamo a capire chi ha vinto allora forse magari un primo discriminante è capire quale dei due se qualcuno dei due ha giocato briscola o no no? cioè se io gioco briscola e tu no vinco io se tu giochi briscola e io no vinci tu se entrambi giochiamo briscola andiamo a vedere il valore se entrambi abbiamo giochiamo non briscola andiamo a vedere il seme e poi il valore quindi ci sono vari casi possibili giusto? allora qual è da dove partiamo? io mi toglierei per prima le briscole quindi se uno ha giocato briscola ha giocato briscola e l'altro no vince lui vince lui lei uno barra una mi raccomando non scrivetemi poi allora come faccio a sapere se il giocatore uno ha giocato briscola? con i valori delle variabili che ho a disposizione come faccio a sapere qual è la carta il seme di briscola? la variabile briscola come faccio a sapere qual è il seme giocato dal giocatore uno? è il secondo carattere della sua giocata quindi se il giocatore uno ha giocato briscola giocata uno seme secondo carattere indice uno è uguale a briscola ma l'altro non l'ha giocata briscola quindi and giocato giocata del due il suo seme è diverso da briscola allora vincitore sarà uno dimmi allora lui ci chiede se si può usare anche in in che senso briscola in giocata uno allora if briscola in giocata uno si può usare perché per fortuna le lettere che indicano i semi sono diverse delle lettere che indicano i valori altrimenti c'è il rischio di dire se io avessi un seme che ne so un seme ad esempio che inizia con la lettera A asparagi avrei la carta 7A che sarebbe 7 di asparagi che non devo confondere e magari quella di briscola però in AP un A di picchett avrebbe dentro la A e potrebbe essere confuso quindi in questo caso specifico si può però è fragile nel senso che va a fare un confronto che è più generoso rispetto al confronto che mi serve davvero allora tu dici vabbè sì vado a vedere solamente il seme quindi vado a vedere questo una donna di cuori bravo donna di cuori è vero ce l'abbiamo già questo problema cuori e q di donna è vero li pensavo separati invece è già così quindi è sbagliato perché ok immaginiamo che briscola sia cuori quadri quadri e la giocata sia la donna di picche allora in questo caso si va a vedere la sottostringa briscola q è compresa nella stringa giocata 1 qp sì ma non deve essere perché non è è compresa ma nella parte seme nella parte valore non nella parte seme ok e allora devo separare la parte seme e dire vado solo a vedere se c'è nella parte di stringa che rappresenta il seme però a questo punto ho due stringhe di un carattere solo è inutile usare in vado a vedere se sono uguali o no o lui vuole chiamare le figure con i nomi italiani in un altro modo per evitare il problema io eviterei il problema a monte nel senso che se quello confronto quello se l'altro confronto l'altro e li tengo separati ok lavoro in modo un pochino più protettivo mi proteggo da me stesso ma anche perché se diamo legge a questa istruzione è la trasposizione pari pari di quello che ho scritto prima uno ha giocato se uno ha giocato seme il seme il seme della sua giocata è uguale al seme di briscola faccio proprio questo confronto tra i due semi e il seme ho deciso di metterlo nella seconda posizione della giocata poi però questo mi considera un caso solo c'è il caso simmetrico no? in cui invece è l'if l'uno non ha giocato briscola e il due sì allora facciamo copia e incolla e spera così vincitore uguale due cioè se la stessa situazione è la stessa ma invertita dove è il giocatore due aver giocato briscola e il giocatore uno no allora ha vinto il due qui ho messo un elif perché chiaramente è una condizione che vado a verificare solamente se la prima non si è verificata ho tante condizioni che sono tutte mutuamente esclusive una rispetto all'altra ok ci siamo tolti di mezzo le vittorie facili io gioco briscola e tu no a questo punto c'è ancora non ci siamo ancora tolti di mezzo le briscole perché c'è anche il caso in cui entrambi hanno giocato briscola oppure nessuno di due abbia giocato briscola allora vediamo il caso magari in cui dimmi in cui entrambi hanno giocato briscola dimmi l'altro sì allora lui dice c'è l'altra ci sono altri due altri tre casi ok a questo punto direi entrambi briscola entrambi non briscola ma lo stesso seme oppure entrambi non briscola ma semi diversi allora i primi due forse sono lo stesso cioè che giochino a questo punto che giochino entrambi briscola o entrambi non briscola ma dello stesso seme si comporta nello stesso modo allora li teniamo insieme magari quei due casi allora smarchiamoci l'altro che è quello di semi diversi entrambi non briscola allora vediamo questo caso come posso esprimerlo es se non sono nel primo caso non sono nel secondo caso i semi sono diversi quindi vuol dire che il seme della giocata 1 è diverso dal seme della giocata del seme del giocatore 2 dal seme giocato del giocatore 2 giocatore 1 giocato quasi giocatore 2 giocato picche e poi appare l'ho detto ed entrambi non sono briscola ma secondo me non è caro di specificarlo perché se uno dei due fosse briscola l'avrei già beccato sopra nella prima o nella seconda if se entrambi fossero briscola non sarebbe vero che sono diversi questo è il momento in cui serve la pastiglia per il mal di testa quindi immaginiamo il caso a parole l'ho detto perché è così sono due semi diversi e nessuno dei due ha giocato briscola quindi dovrei dire sono due semi diversi e nessuno dei due ha giocato briscola lo posso anche scrivere giocata 1 di 1 diverso da briscola and giocata 1 2 di 1 diverso da briscola qui ho tradotto ciò che ho detto a parole i semi dei due giocatori sono diversi semi dell'1 diverso da semi del 2 e nessuno dei due è briscola quindi il primo non è briscola e il secondo non è briscola neanche lui dimmi giusto? ok io ho messo questa parentesi perché mi aiuta a mappare il ragionamento che facevo nel codice che ho scritto in realtà sono trend in consecutiva e quindi il parentesi non serve ma mettiamola ci aiuta a chiarire quello che io stavo sostenendo prima è che questo pezzo qua in realtà non serve perché a questo punto nel programma cioè quando il programma è arrivato alla riga 59 sono sicuro che o hanno giocato entrambi briscola e se hanno giocato entrambi briscola questo pezzo della condizione è falso e quindi il land mi darà falso oppure hanno giocato entrambi non briscola e allora va bene è quello che devo fare quel pezzo lì in realtà non serve perché questa riga 59 non viene eseguita sempre viene eseguita solo se questa if era falsa e questa if era falsa comunque male non fa metterlo stiamo dichiarando una condizione di cui un pezzo sappiamo quanto fa sappiamo che fa true vabbè meglio se domani dobbiamo spostare tra di loro le varie condizioni siamo più tranquilli ma se invece ci accorgiamo che non serve non lo mettiamo allora in questo caso sappiamo che abbiamo detto siamo nel caso in cui due semi diversi nessuno briscola quindi vince il giocatore uno sempre e poi siamo a questo punto abbiamo un unico caso finale che è stesso seme che sia il briscolo o no non importa cioè l'unico caso che ci è rimasto è che i due semi siano uguali uno due dimmi se il seme è diverso io butto quadri e se tu mi metti cuori non vale niente cioè per battermi devi salire sul seme che ho buttato io ok quindi se il secondo giocatore mette un seme diverso non compete non devo guardare il valore cioè gli altri giocatori devono mettere carte sul seme che ha messo il primo se non ho una carta di quel seme ne devo mettere uno di un seme diverso anche se è una carta più alta perdo quindi aggiungiamo un po' di ok allora a questo punto devo confrontare il valore e questa è la parte un po' più rognosa ci siamo tolti le parti facili in cui bastava controllare i semi adesso i semi sono uguali e ci tocca controllare i valori mannaggia quanti casi particolari ho perché questo valore potrebbe essere un numero una cifra 2, 3, 4, 5, 6, 7 potrebbe essere J, K J, Q e K dove il J deve essere maggiore del 7 la K deve essere maggiore del J Q deve essere maggiore del J K maggiore del Q e poi dopo c'è ancora il 3 che maledetto lui è un numero ma vale più delle figure e poi c'è l'asso idee per dipanare questa matassa ok è quello che farei anch'io dimmi ok allora quello che dicono loro due è dire ci sono due strade o impazzire impazzire no però cominciare a fare tutta una serie di casi particolari però capire che noi abbiamo una variabile giocata a 1 a questo punto dobbiamo solamente più guardare il primo elemento delle stringhe giocata a 1 di 0 e giocata a 2 di 0 e dobbiamo dire sono entrambi i numeri allora andiamo a confrontare il valore purché non siano 3 se invece è 3 se uno è un numero l'altro è 3 allora vince il 3 se uno è una figura cioè dovrebbe avere tantissimi casi particolari oppure cerchiamo di generalizzare e diciamo ma qui le carte le ho messe in ordine così a caso se io in quella stringa lì le carte le mettessi in ordine dalla più piccola alla più grande ok e quindi mettessi 2 4 5 6 7 jack donna re 3 asso se le mettessi in quell'ordine mi basta poi capire se lui ha giocato un 7 in che posizione si trova nella stringa e quello dei due caratteri che si trova più a destra vince e così risolviamo con 3 istruzioni quello che altrimenti ce ne avrebbero richieste probabilmente 40 quindi usiamo l'elenco di valori non solamente per contenere quali sono i valori leciti ma anche per definirle in ordine crescente di valore e allora con un find sono a posto abbiamo visto prima find ti ho una lettera faccio find dentro valori valori punto find di giocata 3 ok tu hai la carta che è nell'ordine dei valori la posizione 3 tu hai la carta nella posizione 5 vinci tu fine quindi in questo caso io direi usando la furbizia di aver ordinato i valori in quel modo allora la posizione della carta giocata dal giocatore 1 all'interno dell'elenco dei semi ordinato per valore non è altro che valori punto find di cosa giocata 1 di 0 giusto? giusto? giocato 1 di 0 è il valore giocato 3 asso jack 6 il metodo find ha come primo parametro la stringa lunga e come argomento del metodo la stringa corta la stringa da cercare ricordate che facevamo s.find di o quindi dentro la stringa lunga valori cerca la stringa corta che è il singolo carattere in questo caso e mi darà un valore tra 0 e la lunghezza meno 1 di questa stringa e sono sicuro che questo carattere ci sia perché nel blocco 2 e nel blocco 3 del programma avrò fatto tutti i controlli che dovevo fare adesso non ci sono ancora ma li metterò e poi la posizione dentro la stringa dei valori ordinata per valori crescenti della seconda giocatore giocata 2 di 0 e quindi a questo punto questi pos 1 e pos 2 sono per definizione distinti perché le carte giocate hanno lo stesso seme ma devono avere per forza valori diversi perché nel massa ogni carta compare una volta sola if pos 1 maggiore di pos 2 vincitore uguale 1 els due punti ce la faccio prima o poi vincitore uguale 2 ok e allora basta stamparlo quindi per riassumere poi lo proviamo perché è vero che abbiamo scritto solamente 1 2 3 4 5 6 7 8 no anche qui una decina di righe di programma però è una riga abbastanza dense magari l'avrei potuto provare prima i vari pezzettini abbiamo spezzato il confronto in 4 casi possibili di cui 3 facili in cui potevo decidere solamente sulla base del seme in realtà i primi due sono uno lo speculare dell'altro dove so fare attenzione bene quando faccio copia e incolla li metto da poi a posto vedi che c'è 1 e 2 poi c'è 2 e 1 perché quando fai queste operazioni di codice è molto simile ma devi scambiare l'1 col 2 se te ne dimentichi 1 poi trovi un bacco che è difficile da risolvere oppure semi diversi ma non briscola oppure stessi semi e quindi confronto i valori confronto i valori richiede un passaggio in più chiaramente allora vediamo se ci dà la cosa giusta non possiamo andare in intervallo senza saperlo briscola cuori e si è sempre cuori qua cosa gioco? gioco un 7 di fiori e l'altro magari gioca un 3 di fiori quindi vince il secondo perché il 3 è una carta alta ha vinto il giocatore 2 se invece il secondo giocasse un 4 di fiori vediamo un po' 7 di fiori con 4 di fiori vince il primo ok quindi questo è un caso in cui confrontiamo carte di diverso valore ma stesso seme non briscola facciamo la stessa cosa con due carte di briscola quindi 7 di cuori e 3 di cuori deve vincere il 2 7 di cuori e 4 di cuori deve vincere l'uno proviamo a vedere il jack di picche e la donna di picche giusto per controllare sì è giusto anche che funzioni anche con le figure alla find non mi frega niente se sono cifre o lettere però per toglierci il dubbio io gioco briscola una briscola sfigatissima 2 di cuori e lui gioca una carta molto alta un asso di picche vinco io anche al contrario se io gioco un asso di picche e lui gioca un 2 di briscola vince lui quindi ci facciamo dovremmo farci anche in brutta su un foglio di carta una serie di casi che ci permettono di testare il programma nelle varie situazioni che si possono verificare che abbiamo visto che sono 5 situazioni diverse quindi basta un esempio o due per ciascuna situazione ok allora la parte più complessa l'abbiamo risolta dopo l'intervallo andiamo a risolvere e a completare la parte più semplice qui sono i punti 1 e 2 e il 3 che ovviamente è la fotocopia del 2 adesso un quarto d'ora per farvi passare mal di testa grazie